A Imola, al primo giorno del Gran Premio dell'Emilia-Romagna, sotto una pioggia implacabile, la presentazione della Ducati Senna alla presenza di Bianca, nipote di Ayrton. E' un tributo, un tributo a un grandissimo, un tributo a uno dei piloti più grandi di tutti i tempi, 30 anni da Imola 1994, essere qui in questo momento nel paddo della Formula 1, è estremamente emozionante. Con Bianca Senna abbiamo pensato questo progetto, con la Senna Foundation. Ducati e Senna hanno un rapporto storico, Ayrton era possessore del Ducati 851, si era innamorato nel 916 e era venuto in Ducati proprio nel 94 per realizzare una versione speciale, con una levera speciale che poi abbiamo anche da aver realizzato e presentato, quindi abbiamo poi fatto diverse versioni Senna e quando la fondazione ci ha contattato per omaggiare di nuovo Ayrton, in occasione del trentesimo, abbiamo pensato di fare assieme questo Monster, proprio perché il Monster è una... lui è stato uno dei primi possessori del Monster, ce l'aveva Monte Carlo. Il senso d'orgoglio che Ducati ha portato avanti una livrea del genere sicuramente è un qualcosa che non può appartenere a tutti. Ayrton è una leggenda ed è stato uno dei più grandi atleti della storia e quindi poterlo omaggiare in questo modo secondo me, soprattutto lui che era un Ducatista, è qualcosa di fantastico. Bella, bellissima, è la livrea del casto di un mio idolo, quindi è fantastico. è una moto in serie limitata, sono solo 341, una moto per collezionisti, 341 perché ha tre titoli mondiali di Ayrton e 41 gare vinte, quindi è un numero totalmente dedicato al fenomeno e basta, insomma. Penso che sia una delle cose che i nostri collezionisti e tutti gli appassionati di Ayrton apprezzano moltissimo. però anche i mostri libri scendosi diciamo come verrati perché gli aiuti un Amore.